Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, oggi sono in trasferta come potete vedere, però sono le 19, sono usciti gli swap, evento dell'anno, hype pazzesco a mille, io già lo so che tempesterete questo video chiedendomi quali sono le migliori opzioni, nonostante andremo a vedere proprio questo e quindi mi sentivo di portarvelo e di non lasciarvi senza. Cosa sono gli swap per i più inesperti per i novizi di FIFA? Non sono altro che delle carte che si vanno ad ottenere all'interno del gioco attraverso delle sfide, quindi il completamento di alcuni obiettivi che possa essere in squad battles o in modalità preposte, e poi queste carte che si vanno appunto acquisire, che sono non scambiabili, si buttano in queste SBC apposite, quindi non sprecate queste carte perché altrimenti non potete poi riscattare questi benedettissimi swap. E quest'anno come prima tornata onestamente mi aspettavo, già vi dico un pochino di più, perché è vero sì che come al solito ci hanno riempito di pacchetti che andiamo a vedere, però le carte di giocatori onesto non è che mi garbano tantissimo, però senza perdere troppo tempo andiamo subito a vedere. Primo elemento sbloccabile è il pacchetto 25 giocatori 81 più a 2 token e onestamente questo, insomma abbiamo visto anche gli anni passati che bene o male la sua figura la fa perché accumulando questi pacchetti bene o male si riesce a droppare un po' di cose, soprattutto in periodi di promo. Infatti stessa cosa dico anche per il pacchetto 25 giocatori 82 più in questo caso a 3 token, mentre la situazione diventa ovviamente molto più interessante per il pacchetto 25 giocatori 83 più a 5 token. In particolar modo questo qui potrebbe essere molto 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 utile per i dototi, se riuscite a conservarvelo, se non vi fate prendere la ludopatia, magari qualcosina dentro riuscite a dropparci. Il primo giocatore che invece ci viene messo dentro questi swap è Casillas a 6 token. Onestamente Casillas tra i portieri icon è quello meno utilizzato, è probabilmente anche quello che scappella più facilmente, quindi io onestamente eviterei di andare a sbloccare questo Casillas e sprecare 6 token se penso che con 5 mi prendo l'83 più e addirittura con 5 sempre mi posso prendere l'81 e l'82 più se non voglio prendere l'83. Quindi eviterei Casillas, cosa che invece al momento non farei con i pacchetti ma poi facciamo un recapino finale sulla combinazione migliore. Ricordo che gli swap totali saranno 18 da poter riscattare. Adesso vedete i primi, poi la seconda tornata sarà acquisibile dal 10 gennaio in poi. Nella seconda schermata abbiamo il secondo giocatore che è Rio Ferdinand Mid a 7 token che onestamente è il peggior Rio Ferdinand possibile perché ci sono il Baby e il Prime che sono molto più forti e se vi ricordate la prima volta che misero gli swap regalavano praticamente il Ferdinand Baby a inizio gioco, adesso praticamente a Natale ci regalano Rio Ferdinand Mid che è il peggiore. Quindi anche qua skippare secondo me a più e pari così come skipperei a più e pari il pacchetto con a base o media 8 token. Insomma ce ne hanno rilasciate mille di queste sfide. Abbiamo visto che hanno un drop rate imbarazzante, abbiamo visto che insomma trovarci qualcosa di forte, di utile, di difficile con 8 token prendo il pacco 83 più e soprattutto il pacco 82. Quindi posso fare una combinazione molto molto più utile. Così come skipperei anche Marco Sopramarte a 9 token, un esterno sinistro di dubbio qualità perché è vero il 5 di debole ma il 3 di skill lo rende abbastanza ambiguo come giocatore. Pacchetto e con a media 10 token che onestamente anche qui non è che mi dice granché come opzione perché tra le icone mid quelle utilizzabili sì è vero la percentuale sale però è diciamo una sfida da lanciare al gioco perché non sapete mai la percentuale è bassissima per trovare qualcosa di forte quindi non avete quella garanzia di carta game changing. Anche se voi invece andate a prendere quei pacchettini e magari toti non droppate il toti avete una quantità di carte da buttare nell'SBC incredibile io mi sono carriato sfide penando con quei pacchettini su FIFA 21. Nella terza schermata abbiamo Marcel Desely a 11 token e qua volendo iniziano i giocatori che quantomeno possono essere guardati perché Desely in particolare può essere molto utile qualora si hanno dei difensori che vogliono essere swappati a centro campo perché sto Desely può essere tranquillamente spostato in difesa cosa che facevo pure su FIFA 18 switchavo lui e Ramos Totti che è giocatore Ramos Totti di FIFA 18 quindi Desely vi dico io non lo consiglio però volendo ci posso anche stare così come ci posso stare a 12 token con Alessandro Del Piero 87 4 di skill e 5 di piede debole e un CC della Madonna quindi qua parliamo di una carta di assoluto valore che onestamente qualora si voglia andare a sbloccare io non vi dico niente non ve lo consiglio però non vi dico niente invece a 13 token abbiamo il pacchetto con a media 89 e più anche qua l'89 e più non è che taglia fuori quei sacrandi schifezze di carte che ci sono anzi la percentuale di trovare qualcosa di inutile è comunque molto alta e ve lo sconsiglio così come vi sconsiglio anche il pick icon a base media a 14 token perché voglio dire sempre per lo stesso discorso di percentuali la possibilità di trovare qualcosa che vi svolti il club in maniera allucinante è veramente molto bassa quindi io onestamente eviterei anche questo così come invece vi posso dire che a 14 token a quel punto sarebbe molto più interessante un zambrotta che può essere giocato terzino può essere spostato anche magari in mediana mezzala quindi anche qua una carta che se volete magari guardare può tranquillamente starci pacchetto e con a media o prime a 16 token vi dico qui magari potete anche pensare di se non mi interessa niente di tutto ciò i pacchetti giocatori magari mi provo a fare la sculata o con il pacchetto con a media o prime o con il picchi con a base media o prime anche se la percentuale poi lì di trovare addirittura un'incognita in più rispetto alla media c'è anche la base ovviamente aumenta la possibilità di non trovare quello che vogliamo però lo sappiamo che coi pacchetti regà è tutto randomico insomma non c'è mai la garanzia di sculare o di trovare qualcosa di buono quindi onestamente questo è solamente per quei temerari che non se ne fregano niente vogliono cercare all or nothing la sculata per svoltarsi il club mentre a 17 token penso veramente l'unica scelta che io vi consiglio di evitare proprio come la fame ovvero Wayne Runei a 17 appunto la versione 88 quindi quella mid infatti io mi sono preparato qui tutte queste carte e Runei parliamo di un giocatore che insomma molto molto average 3 di skill 4 di piede debole sul mercato costa 360k eviterei di sprecare 2 mesi di lavoro a farmare gli swap e buttarli dentro a storune che male che vada la peggio ve lo siete comprato con 2 mesi di weekend league praticamente zambrotta come vi dicevo invece è molto carino perché 4 di skill e 5 di piede debole è versatile anche se spostato in mediana lui vi ripeto potrebbe anche starci così come potrebbe anche starci il buon del Piero 600k 4 di skill e 5 di piede debole molto veloce ha un ottimo tiro bei passaggi un bel tiro a giro soprattutto non consiglio vi ripeto overmars perché sebbene sulla carta voi lo guardate è clamoroso almeno tra virgolette ripeto 3 di skill e 5 di piede debole oltre che un body type un po' così speed boost da rivedere per lui quindi ve lo sconsiglio caldamente ed è lì 560k se lo volete acquistare vi ripeto stamina 84 aggressività 90 forza 90 quindi stats di fisico tanta roba così come sono tanta roba le stats di passaggio vi ripeto più di difesa più da spostare in difesa perché le stats di passaggio per un mediano non sono proprio il top e anche l'agilità quel 59 in mezzo al campo con le L2 un po' ne risentite da schippare a pieppari Rio Ferdinand la versione 88 che tra tutti i difensori che sono disponibili del gioco per me al momento non mi dice nulla si 81 di sprint speed 79 di accelerazione ma onesto niente di che e a concludere casillas che sul mercato ve lo portate a casa con 274 onesto eviterei con tutti i portieri buoni che ci sono penso banalmente a un donnarumma di portarmi a casa lui dagli swap visto che vi porta via comunque 6 token quindi ricapitolando che cosa vi consiglio io io onestamente su 18 token la combinazione che vi consiglio di fare è assolutamente pacchetto 83 più 25 giocatori con 5 token poi vi consiglio l'82 più in questo caso con 25 token e ci siamo portati a casa in totale al momento 8 token poi ci andiamo a portare anche il pacchetto 25 giocatori 81 più secondo me per continuare a caricare i giocatori ci rimangono gli ultimi 8 token finali e mi vado a prendere il pacchetto base mid questo qui ad 8 token in maniera tale che ci siamo portati a casa tutti quanti i nostri swap li abbiamo fatti fruttare secondo me nella maniera più intelligente poi se invece volete andare a prendere dei tasselli che ritenete importanti nella vostra squadra come può essere un del piero un deselli uno zanbrot eccetera potete tranquillamente fare magari nel caso di del piero potete prendere un del piero più il pacchetto 83 più 25 giocatori perché vi porta via 17 swap nel caso di deselli potete fare deselli l'83 più e addirittura anche l'82 più quindi insomma io prenderei sempre il carico di pacchetti più ci aggiungerei qualcosina vicino come nel mio caso l'icona media o se ci volete mettere anche un giocatorino vicino potete farlo quindi raga spero di avervi chiarito un attimo tutti i dubbi su quelli che sono gli swap io vi ringrazio per la visione di questo video in descrizione vi ricordo tutti i vari partners live generale sulla piattaforma viola perdonatemi la location esotica un saluto al vostro riberoski ciao